Un teatro, un vecchio glorioso teatro, non è un ufficio, un locale, ma una misteriosa creatura dell'uomo le cui cellule di materia inerte, ferro, legno, cemento, sono in grado di sprigionare un'anima vitale e fremente. Un teatro, un vecchio glorioso teatro, è qualcosa di vivo, è un amico, un appuntamento, un ricordo, uno specchio, un momento, un legame, una libertà, una nostra storia, una nostalgia, una sommessa felicità, un essere in tanti è un essere solo, un desiderio nascosto, un desiderio soddisfatto. La nostra casa, la bella casa degli altri, una verità sconosciuta, una verità dentro di noi, un incontro, una giustizia, una mano per il nostro cammino, un libro dei libri perduti e ritrovati e tante altre cose e molte altre amici. Grazie. 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 Grazie.